Vi porto i saluti dell'assessore Paolo Masini, assessore a uno sviluppo delle periferie, infrastrutture e manutenzione urbana, che ha patrocinato questo incontro di oggi, il suo segnale di oggi, e avrebbe potuto essere qui, ma ovviamente non potete immaginare che sono giornate un po' complesse per Roma, tra allagamenti e problematiche varie, purtroppo la città sempre in preda all'emergenza, quindi vorremmo volare quanti come le parfalle, ma a volte le emergenze ci riconducono un pochino più sul suolo, in questo senso. Comunque con molto piacere noi cerchiamo di appoggiare questo tipo di iniziative anche nella Casa delle Parfalle, abbiamo dei centri culturali, tra l'altro quello di San Basilio, all'Aldo Fabrizi c'è già un giardino delle parfalle che poi abbiamo visitato, su nostra indicazione per cercare anche di riattivarlo, inoltre stiamo sviluppando una serie di progetti anche di ordine alle scuole, insomma diciamo che la direzione è questa, è segnata, e ovviamente appunto come dicevo prima, dobbiamo fare un po' i conti con le emergenze, con il bilancio, però cerchiamo veramente di avere un respiro anche un po' più ampio, perché in questo discorso rientra anche un po' per ieri, proprio ieri appunto è uscito il tema di maturità che riprende l'indicazione anche di Renzo Piano, c'è questo rammento delle periferie, e diciamo che noi siamo in sintonia, stiamo tra l'altro collaborando anche con il gruppo di Renzo Piano in questa direzione, proprio di riducire i pezzi di questa città, insomma, e la natura entra in maniera prepotente in questa città, stiamo in una città verdissima, insomma, in un comune agricole di Europa, in questi ampi spazi vetri che sono purtroppo difficili da mantenere dal punto di vista amministrativo, ovviamente con dei costi veramente in questo rito purtroppo non sostenibili, quindi trovare anche forme ovviamente diverse, che partono dal basso, quindi di adozione delle aree verdi, si sta lavorando anche insieme all'assessore dell'ambiente in questa direzione, quindi tutte iniziative che cercano appunto di riflucire anche la parte selvaggia della città, non bisogna anche di questo, di riflucire insomma il suo rapporto con la natura, si va sempre più sfilacciando, credo anche nelle... ho sentito un piccolo pezzettino dell'intervento precedente sull'educazione nelle scuole, no? Bisogna abituare anche i bambini ad avere un contatto con la natura, con questa natura che non è una natura matrigna, ma insomma è una natura dietro casa che può costituire anche un'aula a cielo aperto, insomma, non rimanere così in un'aula scolastico, ma insomma cercare veramente di riavvicinarsi per contrastare questo fenomeno che è il deficit anche di natura, di cui si parla moltissimo, non so se l'ho sentito parlare, insomma, le visite di natura delle nuove generazioni che si allontanano appunto dagli ambiti naturali, dal contatto con la natura con tutte le conseguenze, poi perché se dobbiamo formare una classe dirigente del futuro che abbia il cuore anche il patrimonio naturale, forse tocca cominciare veramente a lavorare in maniera più decisiva nelle scuole, in questa direzione, quindi i giardini del farfale o comunque questo tipo di iniziative vanno in questa direzione veramente per riconnettere il mondo della città urbana con la natura che ci circonda, che appunto non è una natura di cui abbiamo paura. Io vedo tante famiglie che lavorano anche per gli insetti, forse veramente lavorare veramente, fa di capire che gli insetti sono colpa delle madri, di questa generazione iperprotettiva, nei confronti delle nuove generazioni, che impedisce però appunto poi una sperimentazione con il mondo naturale, con la diversità, insomma, animale, vegetale, quello che sia, insomma, quante volte cerchiamo a dire che la terra sforga, non ti sporcare, vai in giardino ma ti sporcare, invece tornare veramente con le mani nella terra sarebbe molto educativo e formerebbe, insomma, diciamo, queste nuove generazioni. Gli anticologi, sì, le città ci massacrano, no, quando si infetta qui, si infetta lì, no, poi alla fine siamo tutti allergici, no, i bambini di otto sono tutti allergici con le ansie, c'è, in un caso, insomma. Quindi, io scotterò l'ultima da tavola da ruba, adesso sono molto lentieri, poi, se volete, insomma, sono a disposizione per qualsiasi tipo di informazione, insomma, per uno scambio. Grazie.